La FIBA Europe Cup è ancora una volta italiana. Dopo Venezia, che lo scorso anno superò Avellino in finale, ecco il trionfo di Sassari che vince contro il Wurzburg, successo in casa e in trasferta nei due atti conclusivi della competizione per la Dinamo di Gianmarco Pozzecco, in striscia aperta di nove vittorie consecutive. Nella Coppa, a cui poteva prendere parte la Scandone dopo l'eliminazione della Champions League, si conferma il tricolore. La Siligas corre verso l'impegno casalingo con l'Epic Casa Brindisi, in programma domenica alle 20.45 al Palà del Mauro, una giornata da punti pesanti in palio per la proprietà di calcio e basket avellinese. Nei giochi play-off della Scandone, tanto passerà per il confronto con la Stella del Sud, guidata in panchina dall'ex Frank Vitucci, più quattro sulla Scandone, al quarto posto, ma che punta alla massima concentrazione negli allenamenti. Fino al termine della stagione, il club pugliese si allenerà con l'impianto a porte chiuse. Avellino ha bisogno di due vittorie per evitare rischi e soprattutto non legarsi ai risultati delle altre formazioni. Varese e Cantù puntano lo sgambetto nel rush finale. Coach Massimo Maffezoli punta le certezze dall'infermeria per il parquet. Resta il dubbio sulla condizione fisica di Caleb Green, rientrante dagli States dopo i consulti con il medico di fiducia.